Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io Oggi siamo con un nuovo video su One Piece Come avevo promesso, dato che il sugo avrebbe finito Vi avevo detto nel precedente video, potete anche vederlo In precedente video vi avevo detto che con quello che droppavo Dicevevate quella che riuscivo a droppare io grazie alla mia fortuna Ok, il droppamento è finito, chi ha visto il video già Adesso c'è l'evento di Trafalgar Possibile droppare il giro del mare, Trafalgar, Zoro Io sono arrivato a 10 gemme, quindi vi do l'account a un buon punto Vi do l'account a un buon punto e sarebbe buono secondo me Questi sono i personaggi che ho droppato Quindi questi sono tutti i personaggi, le skill books, le loro rimaste in casa potrebbero servire Qua c'è la friend list, le mail, qua ho tolto tutte le gemme Vedete, ci sta questo qua, però non me la davano Perché comunque non me ne frega un cazzo Insomma, quindi l'account del mio unico iscritto Dato che ho visto che sono arrivato almeno a un iscritto, è già una buona cosa L'account verrà dato a quell'unico iscritto che sarà Che ha aspettato fino adesso, giustamente con pazienza E quindi la darò assolutamente a lui Quindi andiamo su, vediamo Allora, change device E adesso farò vedere la password I su password I su, come cazzo chiama Allora la password è questa qua Memorizzala, mi raccomando Tutto così, cosa Quindi, questa è la password Eh L'ho detto tutto Togliamo adesso La metto di nuovo in caso che qualcuno Vabbè, no, no Una volta basta Basta una volta Ok ragazzi Comincerete da Sheltown Ecco Punto Punto E Comincerete da Sheltown Comunque Allora L'account È stato dato La password è stata data Spero che L'account lo prenda L'unico iscritto che si è iscritto Che vede immediatamente il video appena possibile E niente ragazzi Il video termina qui Anche se è molto breve Comunque Questo io volevo dire Questo è l'account che Dovevo offrire Con il prossimo Sucofest Ci sarà un altro account Sempre sul Sul Galaxy Note 4 Quindi ragazzi Questo è quello che sono riuscito a droppare Fatemi sapere se il video vi è piaciuto Se vi è piaciuto Se mi piace qui sotto E iscrivetevi al canale Noi ci vediamo settimana prossima Con un nuovo video Ah Mi raccomando Mi piace Ciao a tutti ragazzi